Ed è arrivato il momento di fare il prossimo ricordo per Cristina. Dovrebbe essere il quarto su cinque. Questa volta però non è a Piazza del Popolo, eh. Stavolta è da un'altra parte. Parliamo con sta signora, anzi neanche per parlare. Via direttamente a Firenze, credo. Venezia! Torniamo a Venezia, ragazzi. Ricordoni. Diciamo che l'armatura era diversa. Ezio non aveva la barba. Metto un biglietto addosso a Cristina per allontanarla dai festeggiamenti. Per fare cosa? Localizziamo Cristina e magari non uccidiamo il povero Leonardo. Non so che succede se tiro Leonardo in acqua. Si può fare? L'ha già sparito, fantastico. Ripeto, se Assassin's Creed 2 avesse avuto l'accuratezza grafica che c'ha Brotherhood quando ti riportano in ste città, ragazzi, è tutta un'altra Venezia questa. Cristina. 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 Oggetto piazzato. E allora, via. Adesso si slingueranno tutti. e aspettiamo qui. Quante corna che gli ha messo al suo tipo? Da quando sei così romantico? Esio, che cosa ci fai tu qui? Ah ah! Cristina, va tutto bene? Tutto bene? Non ci vediamo da otto anni! Sì, temevo che non saresti venuta se te l'avessi chiesto. Hai ragione. Non sarai venuta. Ezio, l'ultima volta che ti ho visto mi hai baciato e te ne sei andato lasciando che sposassi un altro. Era la cosa giusta da fare. Lui ti amava. Chi se ne importa di lui? Io amavo te! Ezio, sei un coglione. Hai avuto una seconda occasione. Ti prego, Ezio. Non venirmi più a cercare. Bruttissimo. Addio Venezia. Anzi, in realtà addio niente Venezia perché... Ci sarà un altro ricordino qui. Torniamo a Roma. Ricordo brevissimo. Ed eccoci tornati alla base.